Ciao e benvenuti in questo nuovo capitolo dedicato a Clubhouse. Io sono Kita e oggi ti darò tantissimi consigli utili per riuscire a conquistare una ragazza su questo social. Innanzitutto voglio cominciare questo video dandoti una serie di regole così proprio a raffiga boom 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 se vuoi davvero effettivamente riuscire a ottenere successo. Dopodiché potremo iniziare con una spiegazione un po' più friendly tra me e te con qualche chicca un po' più avanzata. Ci sei? Allora partiamo. Regole comportamentali per riuscire ad avere successo con una ragazza su Clubhouse. Ora iniziamo a darle così a raffiga e poi vediamo alla fine quante sono. Numero 1 non aggiungere su Instagram una ragazza che hai notato su Clubhouse ma con la quale non ci hai parlato nemmeno una volta. Numero 2 impara a conversare con le ragazze nelle room anche di argomenti che non trattano per forza di sesso o similari. Numero 3 non elemosinare il follow da una ragazza in nessun modo. Questa cosa deve avvenire in maniera totalmente genuina e naturale da parte sua. E non perché sei tua chiederglielo insistentemente. Numero 4 non far partire delle room private con una ragazza o con più ragazze così a caso senza un motivo ben specifico. Soprattutto se magari non ti sei organizzato precedentemente con questa ragazza nel dire guarda facciamo una room privata. Perché se no rischi solamente di rimanere bloccato da ognuna di loro. Numero 5 inizia ad avere degli standard per te stesso nel decidere con quale ragazza effettivamente provarci. Tra l'altro questi standard di cui ti sto parlando dovrebbero essere oltre a degli standard fisici anche e forse soprattutto degli standard caratteriali. Numero 6 non ragionare mentalmente come se qualunque donna su Clubhouse avesse voglia di fare sesso. Tutte le persone del mondo hanno voglia di fare sesso ma non tutte le persone del mondo hanno voglia di fare sesso con te o con me o con Johnny o con chiunque altro. Di conseguenza evita tutti quegli atteggiamenti squallidi nelle varie room perché porterebbero a pensare alle ragazze presenti che sei solamente un caso umano. Numero 7 ricordati che dall'altra parte dello schermo non c'è una bambola confiabile bensì una persona fatta di carne e ossa che vive di emozioni. Quindi impara a trasmettere emozioni piuttosto che altro. Numero 8 non inventare delle cazzate sulla tua vita solamente per sperare di riuscire a fare colpo con le ragazze in quella room perché fidati che tanto non ci riesci. Numero 9 qualora la tua bellezza o la tua ricchezza ti appartenessero particolarmente non ti vantare di queste cose. Questo perché in genere le persone che ostentano non vengono particolarmente viste di buon occhio. Numero 10 se decidi di provarci con una ragazza che ti ha incuriosito in una determinata room fallo ma non essere troppo esplicito. Soprattutto mentre siete in una room pubblica dove vi possano ascoltare altre persone perché altrimenti faresti sentire questa persona a disagio. Numero 11 impara a stuzzicare la ragazza in questione utilizzando un pizzico di ironia e di originalità. Dopodiché se noti che c'è feeling inizia a seguirla. Devi imparare a creare i giusti presupposti tra di voi se vuoi riuscire davvero a conquistarla. Numero 12 sfrutta clubhouse anche per divertirti o per imparare qualcosa di nuovo. Quindi non vederlo solo come un posto dove poter rimorchiare. Numero 13 se vuoi riuscire a ottenere qualcosa di soddisfacente da clubhouse non utilizzare questo social per trollare, litigare o per portare energia negativa all'interno delle varie room. Numero 14 non perdere tempo in room dove non si parla per x motivi oppure l'unico argomento di cui si parla è soltanto un fattore estetico basato sulla fotoprofilo o cose del genere. Numero 14 ricordati che siamo su un social dove è fondamentale il contenuto di ciò che dici e non della tua fotoprofilo. Numero 15 non chiedere mai ad una ragazza in una room pubblica se è fidanzata oppure no. Questa è una domanda che potrebbe mettere davvero a disagio le persone. Numero 16 se noti di aver trovato una ragazza in una room che ti incuriosisce e sei riuscito a creare abbastanza feeling tra te e lei non aspettare dieci anni prima di aggiungerla, prima di scriverle eccetera eccetera. Se vedi che ci sta e anche a te piace muoviti e non perdere tempo. Numero 17 non utilizzare termini scurrili. Clubhouse è un social di nuova generazione e non un bordello di 40 anni fa. Numero 18 non proporre dopo appena due minuti ad una ragazza o a più ragazze di avere una room privata assieme. Numero 18 non ti conoscono ancora bene e anche solo pensare di provare a fare una proposta del genere è follia pura. Numero 19 non provarci con ogni ragazza presente nella room se non vuoi essere percepito come il classico morto di figa. E infine non passare tutto il tempo nelle varie room di Clubhouse a sbavare basta senza dire neanche una parola perché tanto alla fine nessuna ragazza si innamorerà mai di te si agirà in questo modo. Fine delle regole. Boia 20 regole. Sto giro mi sono proprio superato direi. Comunque a parte questo spero veramente che tu ti sia segnato tutto quanto perché serve che inizi a seguire tutte queste regole se vuoi davvero iniziare a ottenere successo su Clubhouse. Ora da qui in poi ti chiedo di ascoltare bene i consigli che ti darò e di iniziare a metterli in pratica fin da subito. Vedrai che iniziando a seguire le regole, iniziando a seguire i consigli che ti darò adesso, più tutti i consigli che ti ho dato in tutti gli altri video precedentemente, aggiungendo tutto questo alla pratica ovviamente, i risultati non tarderanno ad arrivare. Intanto il primo consiglio che voglio darti è quello di ricordarti sempre, sempre, sempre che ti trovi in un social dove è la voce a fare da padrone. E la maggior parte delle persone sono lì per avere un confronto vocale e non estetico. Quindi se vuoi riuscire davvero a fare colpo su una ragazza su Clubhouse, la primissima cosa che devi fare è quello di imparare a trasmettere nel miglior modo possibile il tuo carisma nelle varie room. E secondo, dovrai iniziare a provarci con una determinata ragazza solamente in maniera genuina, prestando attenzione alle cose che davvero ti hanno colpito di quella ragazza nello specifico. Se una ragazza fa un intervento su un determinato argomento e quella cosa che dice ti colpisce particolarmente in maniera genuina, faglielo presente, sarà un complimento che varrà milioni di volte in più rispetto ad un complimento che potresti farle da un punto di vista estetico. Al contrario invece, se non sei pienamente d'accordo con il suo intervento, non assecondarla solamente perché è una bella ragazza. Appena girai mentalmente col concetto di vabbè ma lei è donna e allora può tutto, riceverai in cambio il premio dell'amico perfetto. Lei ti vorrà bene, certo. Chi non vorrebbe mai bene ad una persona che continua ad adularti e che continua a pompare il tuo ego gratuitamente? Solo che poi quando ci proverai, riceverai indietro il semplice ti vedo solo come un amico. Quindi se il tuo scopo è quello di essere frenzonato, prego procedi pure. Ma se invece il tuo scopo è quello di conquistarla, allora serve che metti in gioco la tua assertività. E con assertività intendo l'arte di riuscire a far valere le proprie idee senza prevaricare le idee altrui. Infatti nelle varie room in cui mi sono trovato spesso su Clubhouse, e di room su Clubhouse me ne sono fatte veramente tante ormai, mi sono trovato spesso e volentieri a vedere dei personaggi totalmente opposti. Da un lato ci sono gli adulatori, e cioè quelli che ti ho spiegato poco fa che a prescindere da qualsiasi cosa faccia la ragazza è tutto perfetto. E dall'altro invece ci sono i misogini, e cioè quelli che praticamente odiano le donne. Ovviamente sto generalizzando e non è che in tutte le room ci sono queste tipologie di personaggi, però è per farti capire che ci sono effettivamente queste due tipologie di persone che fanno veramente contrasto. E un'ipotetica scena che potrebbe accadere anche semplicemente in una room fatta per scambiare quattro chiacchiere, potrebbe essere tranquillamente una scena dove all'interno ci sono magari ragazzi e ragazze, che si trovano spesso e volentieri alla sera in quella room, e ad un certo punto vedi che spunta nella audience la testolina a una foto profilo di una nuova ragazza. Una ragazza normalissima eh, carina nella foto profilo, magari con una posa un po' più sexy del normale, ma niente di che eh. La ragazza ovviamente in questo caso deve ancora salire tra gli speaker a parlare eh. Non ha detto neanche una parola. Ecco che subito l'adulatore della situazione inizia a dire Ehi ma ragazzi ma fate salire Jessica! Cioè dai una con una foto così cosa fate? Non la fate parlare? Dai! E il misogine invece. Eccone un'altra che vende il suo corpo e fa il mestiere più vecchio del mondo. Ma non ti vergogni? Cioè raga io non ho parole, davvero. Sta ragazza non ha neanche ancora nemmeno parlato, non ha nemmeno detto A, non è neanche ancora salita sul palco, e già ha ricevuto il titolo indiscusso di regina della room e campionessa di escort allo stesso momento. Capisci quindi quanto è effettivamente difficile per una ragazza riuscire ad esprimersi come davvero vorrebbe fare? Ma dico io, ma sta ragazza è apparsa nella room, ha chiesto di salire a parlare? Se sì, bene, falla salire e sentiamo cos'ha da dire. E nel caso proviamo a creare un confronto costruttivo con lei. Ma se non ha nemmeno ancora espresso il suo desiderio di salire a parlare e se non ha detto nemmeno una parola, è inutile stargli a giudicarla, no? Vabbè, andiamo avanti. Altri consigli che mi sento di darti se vuoi riuscire ad avere maggiori probabilità di successo nelle room. Intanto non è un dato di fatto, ok, non è scientificamente provato, ok, ma tendenzialmente prova a fare a caso questa cosa. Se sei moderatore di una determinata room, tendenzialmente vieni percepito come persona che ha maggiore valore all'interno di quel gruppo. Quindi se ancora non avevi fatto caso a questa cosa, bene, inizia a farlo. Si tratta di un concetto di persuasione chiamato autorità. Ora non starò più a spiegartelo, ma fidati che è così. Mentre invece, se per X motivi conosci persone famose nel web o VIP o robe del genere e decidi di farle entrare dentro la tua room, perché così pensi che la tua room diventi figa, eccetera, eccetera, aspetta. Probabilmente la tua room potrebbe diventare molto più interessante e molte più persone sarebbero propense a partecipare, a voler ascoltare, a voler parlare, eccetera, eccetera. Ma devi tenere in conto il fatto che probabilmente l'attenzione si sposterebbe totalmente nei confronti di questa persona famosa, che, involontariamente magari, ma monopolizzerebbe la stanza. E in quel caso tu rimarresti senza nessuno che ti caga. Quindi, occhio se decidi di fare questa scelta. Poi vediamo cos'altro. Sì, allora, devi cercare di immaginarti quella room come se fosse una vera e propria chiacchierata tra amici dal vivo. Di conseguenza, come fare a far colpo con una ragazza mentre sei nel tuo gruppo di amici? Semplicemente, in maniera naturale. Devi diventare colui che ha sempre la risposta pronta, colui che ha sempre la risposta brillante, colui che è l'anima della room, ma che allo stesso tempo riesce a far sentire importanti tutte le persone presenti in quel momento. E immagino che tutti questi concetti non ti sono nuovi, vero? Sono semplicemente le caratteristiche tipiche di una persona carismatica. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che se vuoi riuscire a fare colpo con una ragazza su Clubhouse, devi imparare a trasmettere assolutamente il tuo carisma, anche solo attraverso l'utilizzo della tua voce. Ogni consiglio da qui in poi sarebbe solamente superfluo, te lo giuro. Io potrei parlarti da qui in poi per un'ora intera della frase X o della parola Y da poter dire per aumentare la possibilità che la ragazza in questione voglia avere una room privata insieme a te, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine della fiera si rifà sempre tutto alla qualità dei contenuti che riesci a portare nelle room e il modo in cui riesci ad entusiasmare le persone presenti in quel momento nella room insieme a te. E lo so che molto spesso questa cosa non è semplice, lo so. Molto spesso per riuscire a fare tutto questo, serve fare un vero e proprio percorso di miglioramento su se stessi. Perché tutti nasciamo con una forma di carisma al proprio interno, ma non tutti siamo in grado di riuscire a portarlo fuori per come vorremmo. Tutto qui. Serve lavorare su se stessi ogni giorno nella propria vita. Va bene, adesso basta, direi, perché sto diventando il motivatore di nuova generazione. Però spero davvero che il video di oggi ti sia stato davvero utile perché ho provato a darti veramente tantissimi consigli per riuscire a farti ottenere i tuoi obiettivi su Clubhouse. E se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di andare a guardare anche tutti i video precedenti che ho fatto su questo argomento per riuscire a farti un'idea davvero concreta e specifica di tutto questo percorso di video che abbiamo creato sull'argomento Clubhouse. Per qualsiasi dubbio o informazione non esitare a contattarci. Noi di Social Player siamo sempre disponibili a darti una mano. Io sono Kita e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!